Il ministro Busetti esulta nei prossimi mesi 70.000 insegnanti precari entreranno in ruolo o saranno in qualche modo stabilizzati. Anche i sindacati cantano vittoria perché l'operazione è il frutto di un lungo confronto fra le parti su una materia, quella del reclutamento, che per legge non potrebbe neppure essere oggetto di contrattazione sindacale. Ad ogni modo l'accordo è stato raggiunto lo scorso 11 giugno e prevede in particolare due misure, entrambe rivolte ai docenti della scuola secondaria. La prima consiste nell'avvio di un PAS, percorso abilitante speciale, aperto a tutti coloro che hanno raggiunto tre anni di servizio svolti nella scuola statale o nella paritaria. Al PAS potranno accedere però anche i dottori di ricerca e tutti quei docenti di ruolo che intendono conseguire una seconda abilitazione. La seconda misura è un concorso straordinario finalizzato alla stabilizzazione, aperto ai docenti con tre anni di servizio, ma in questo caso solo nella scuola statale. Un anno dovrà essere svolto nella classe di concorso per la quale si concorre. Chi sarà inserito nella graduatoria finale di merito, anche se non otterrà subito la cattedra, conseguirà comunque l'abilitazione. Per essere realizzato il piano dovrà però essere approvato anche in sede legislativa. Nel corso dell'incontro con i sindacati il Ministro Busetti si è impegnato a far inserire un emendamento nel primo provvedimento utile. C'è chi parla di stabilizzazioni che potrebbero decorrere già da settembre o al massimo da ottobre, ma chi conosce i tempi delle procedure concorsuali nutre più di un dubbio, senza considerare che anche il percorso parlamentare non è del tutto sicuro. Nelle ultime ore infatti due esponenti del Movimento 5 Stelle, la deputata Lucia Zolina e la senatrice Bianca Laura Granato, hanno già fatto sapere di non essere molto soddisfatte di un accordo che nega i principi del merito e che si presenta invece come una ennesima sanatoria. Lucia Zolina anzi dice di più e fa un lungo elenco di misure ritenute essenziali, dalla diminuzione del numero di alunni per classe al rientro a casa dei docenti che hanno dovuto accettare la sede a centinaia di chilometri di distanza, fino all'aumento degli stipendi e allo svuotamento definitivo delle GAE. E conclude, ci rivedremo in Parlamento e a buon intenditor poche parole. Insomma, l'accordo fra il Ministro e i sindacati potrebbe anche rimanere soltanto sulla carta. Ovviamente di questo tema noi continueremo ad occuparci, soprattutto seguiremo gli sviluppi in sede parlamentare, quindi continuate a seguirci su questo canale, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, seguiteci anche sul portale della nostra testata www.tecnicadellascuola.it www.tecnicadellascuola.it